Stiamo per uscire in barca insieme ai ragazzi della polisportiva Olimpia Onlus Eccoli qua Ciao Bravo, benvenuto a bordo Ciao, tu sei? Matteo Vieni Mirko, bravissimo Bravissimo Alessandro, ciao Benvenuto, chi sei tu? Eccola Jessica Ti prego Luigi Olè Ciao Ciao Eccolo il bordone Ciao Ebbene Sono felicissimo del fatto che grandi campioni come Andrea Mura Mi hanno messo a disposizione Per far fare questa esperienza Quindi rende i miei nostri altri enti Vai Vai Sì, sì, sto facendo un po' Lo facciamo vedere a mamma dopo Vai Non servono più i soldi Ma serve la condivisione Delle persone che non pensano più Che come dicono sempre Vendica di confermare tutto C'era nella voglia E conviene tutto notare Per far fare la condivisione Per far fare la condivisione Non servono più i soldi La condivisione La condivisione Con servono più i soldi Il mio sogno è riuscire a vedere questi ragazzi e ragazze vivere una loro vita. Ciao! Ciao e viva! Perché non fargliela vivere questa vita? Perché avere sempre chi decide per loro che cosa devono fare. Grazie a te. Grazie a voi. A te. E' meglio solo che sono qui con i miei amici, con te, con la tua pacca bella e venite l'occhio a voi. E' stato un piacere e un onore. Piacere e un onore ragazzi, siete troppo pronti. Ciao! E basta parlare positissimi e finire con altre tecnologie, come sempre, disabili, diversamente abili, handicappati. Sarebbe bello sentissimi, parlare e chiamare Gigi, Alessandro, Elia, Matteo, come tutti noi. E' per vento di Sardegna un applauso! Tre' applausi! Tre' applausi! Quattro' applausi! El Pal 의자 Salute!